La Guardia di Finanza di Albenga ha scoperto nel centro di Borghetto Santo Spirito due parrucchieri che operavano in nero senza dichiarare nulla al fisco. Le indagini di natura fiscale sono partite circa tre mesi fa, quando i finanzieri di Albenga, nel corso di normali controlli del territorio mirati alla corretta emissione di scontrini e ricevute fiscali, hanno rilevato alcune anomalie nella documentazione fiscale dei due esercizi pubblici. Dai primi riscontri eseguiti è emerso che i due esercizi non avevano mai presentato la prevista dichiarazione dei redditi e risultavano quindi completamente sconosciuti al fisco. Immediatamente scattato un più approfondito accertamento presso i due saloni allo scopo di reperire tutta la documentazione contabile ed extra contabile necessaria a ricostruire il reale volume d'affari conseguito. L'esame della documentazione dei conti correnti bancari nella disponibilità dei due soggetti ha permesso le fiamme gialle di ricostruire l'ammontare delle prestazioni rese dai due differenti esercizi pubblici e mai dichiarate all'erario che ammonta quasi 200.000 euro complessivi. L'importo è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate che provvederà all'accertamento e dal recupero delle somme vase.